Sicurezza urbana. Fratelli d'Italia lancia una raffica di proposte che il Consiglio Comunale di Vicenza ha approvato all'unanimità. Abbiamo proposto più telecamere nella zona residenziale di Monteberico dove gang di rapinatori hanno fatto razzie in villa nell'ultima settimana. Abbiamo chiesto il potenziamento dell'illuminazione pubblica qui in zona Santa Bertilla, precisamente in via Legione Antonini, dove furti, rapine e aggressioni sono diventate una piaga costante. Dalle telecamere di videosorveglianza a Monteberico, dove le gang criminali hanno messo a segno diversi colpi, fino al potenziamento dell'illuminazione a Santa Bertilla. Antidoti a furti, a rapine, che però non basteranno. Serve un giro di vita a livello legislativo con Fratelli d'Italia che ha il Governo nazionale. Queste sono soluzioni che non basteranno, ne siamo consapevoli, ma sono l'esempio che l'ascolto attento e puntuale della cittadinanza e la perseveranza nel proporre soluzioni fattibili e ragionevoli restano un patrimonio da usare sempre per il bene di Vicenza. Perché la legalità, non è solo una parola, la legalità vive nei fatti concreti.